Siamo qui nel laboratorio TED Plus di SDA Bocconi. TED significa tecnologia e didattica ed è il laboratorio che ha la missione di sviluppare metodi didattici attraverso l'uso di tecnologie per aumentare sia il valore della lezione in aula che rendere possibile l'interazione a distanza con partecipanti di corsi SDA o con studenti universitari. Noi siamo tre cose sostanzialmente. Siamo un laboratorio pieno di tecnologie. Abbiamo più o meno qualunque cosa vi venga in mente dai mondi tridimensionali alle riprese professionali audio e video a dei linguaggi di programmazione evoluti. Questo è il lato tecnologia che però non serve a nulla se non è affiancato dal secondo piano che è quello di uno sviluppo originale dei metodi didattici cioè come usare le tecnologie per aggiungere valore e non semplicemente per imitare ciò che si fa in aula e spostarlo a distanza. Bene qui noi facciamo una grossa ricerca con tanto sforzo dedicato in questo io ringrazio la SDA che ci dà la possibilità di farlo e tante anche pubblicazioni sull'argomento su riviste internazionali che certificano la qualità della nostra ricerca. Quello che facciamo è cercare di non imitare le aule tradizionali per rendere possibile un'interazione a distanza abbastanza noiosa ma cerchiamo di usare le tecnologie in modi originali e divertenti in modo a creare affezione nel pubblico che magari non può venire qui a fare i tradizionali corsi. Insieme tecnologie e metodi creano eventi. Noi supportiamo l'esistenza di master come il master MBA part time che è un master con oltre 50 partecipanti per ogni edizione che vedono diciamo metà della loro attività in aula e metà della loro attività a distanza. Grazie ai creatori di questo master, cito Roberto Donà, è possibile fare un sacco di sperimentazioni e di creare momenti di valore aggiunto e di interazione con gli studenti che stanno a casa. Per quanto riguarda gli altri eventi siamo contenti di dire che siamo riusciti a raggiungere circa 30 mila persone negli ultimi due anni rispetto alle nostre attività in diretta su internet, rispetto alle lezioni che trasferiamo attraverso questo mezzo, rispetto agli eventi che servono per raccontare che cosa succede all'interno della nostra business school. Abbiamo creato alcuni giochi, molte centinaia di learning object che possono essere usati dai manager per riguardarsi una serie di concetti teorici e pratici a distanza e abbiamo creato occasioni di interazione piuttosto carine con software sia creati da noi che acquistati dagli scaffali che possono essere un'utile occasione di apprendimento. In quanti lavorate al TED e qual è l'investimento di SDA Bocconi? Le persone che qui collaborano a più stretto titolo sono una decina, poi però c'è tutta la facoltà di SDA Bocconi, cioè l'insieme dei docenti che erogano i corsi, che allarga di molto il numero. L'idea che dicevamo prima è che c'è una sorta di triangolo, tecnologie, metodi ma anche contenuti. I contenuti noi non li proponiamo al nostro interno ma abbiamo una facoltà che è anche internazionalmente nota dal punto di vista delle cose che sono sviluppate. Quindi quante persone sono? Potrebbero essere dieci ma potrebbero tranquillamente essere quei 50 docenti entusiasti delle tecnologie che sono in SDA Bocconi e che ci danno una grossa mano a fare gli esperimenti e le produzioni qui dentro. Per quanto riguarda gli investimenti diciamo che non glielo dico ma che siamo nell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro all'anno dal punto di vista di investimenti che riguardano hardware, software, persone, soprattutto costruzione di esperimenti che ci consentono di testare se le cose che stiamo creando hanno un valore per l'apprendimento oppure semplicemente devono essere diciamo abbandonate nel confronto di qualcosa che si rivela essere più efficace. Quindi non abbiamo molta paura di buttare alle ortiche le cose che abbiamo fatto quando riusciamo a fare qualche cosa che funziona meglio. Crediamo che la strada sia molto lunga perché adesso che stanno arrivando le nuove cohorti di studenti abituati a internet sin da quando le persone erano piccole, dobbiamo fare un grande sforzo nell'integrare le tecnologie anche nelle aule tradizionali, pena la perdita di interesse di queste nuove generazioni che apprendono attraverso Google, che apprendono attraverso YouTube, che apprendono attraverso una serie di strumenti tecnologici che magari nelle generazioni passate non erano così presenti. È un po' come imparare a sciare a vent'anni invece che a due, la naturalezza nell'uso degli sci è diversa e la stessa cosa è per questa internet generation che stiamo vedendo nelle nostre aule universitarie che ci spaventa ma che ci crea molte opportunità di ripensare la nostra capacità didattica e dialettica anche attraverso l'uso delle tecnologie che sono in giro oggi su internet, che consentono l'esistenza di mondi virtuali, che consentono l'esistenza di videogiochi. Noi siamo molto appassionati su queste cose e ci piace l'idea che siamo vicini a integrarle in una lezione che a questo punto sarà una lezione next gen a tutti gli effetti. Grazie.